Siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini Ciao a tutti ragazzi sono GDB e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo andremo a parlare del fatto per cui i server Rockstar sono in manutenzione e quindi non funzionano attualmente quindi come vedete da questi screen i server sono offline, ancora non si sa ragazzi per quale motivo, con certezza insomma però come vedete neanche la Rockstar ne sa propriamente la causa, quindi si ipotizza un mega attacco hacker che ha coinvolto praticamente i server di GTA 5 per PC di GTA 5 per PS4, GTA 5 per Xbox One, Red Dead Redemption 2 per PS4 e Red Dead Redemption 2 per Xbox One quindi ragazzi molti mi hanno scritto perché non mi faccio vedere, perché qua, perché là, nel gruppo Telegram sta succedendo un casino perché molti stanno chiedendo la stessa cosa ragazzi quindi vi faccio questo video al volo per dirvi semplicemente di stare tranquilli che non succederà nulla quando Rockstar insomma risolverà lo scriverò nel commento bloccato in alto oppure se siete nel gruppo Telegram lo saprete insomma in tempo reale possiamo dire quindi se volete entrare nel gruppo Telegram entrate, il link nel commento bloccato in alto, se volete entrare nel canale Telegram link anche esso nel commento bloccato in alto il canale Telegram serve a rimanere aggiornati sui video perché molto spesso YouTube non invia le feed molti mi stanno chiedendo quale video hai portato, quale glitch funziona, quale glitch non funziona l'unico glitch funzionante è l'ultimo che ho portato sul canale però attualmente non lo potete fare e molto probabilmente ragazzi Rockstar lo patcherà domani quindi le cose, ricapitolando, ipotizziamo che le cose siano le sguenti insomma o Mega Attacco Hacker come testimoniano appunto questi screen di Twitter oppure DLC a sorpresa in arrivo dubito sia la seconda anche se io ne ero certo fino a poco tempo fa proprio perché ho visto questi screen di Twitter che sono veritieri quindi tranquilli quindi le possibilità sono queste qua vi ricordo che vi terrò aggiornati sulla situazione spero che il video vi sia piaciuto se siete nuovi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche condividete con i vostri amici per farglielo sapere anche a loro vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere aggiornamenti insomma sui glitch per fare soldi su GTA Online e tutta questa roba qua vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo al prossimo video